Oh ma raga cos'è sta roba? Non lo so, noi stavamo facendo il mondo survival Stavamo facendo un vanilla, che cacchio è sta roba? Esatto, siamo andati a roba in ferro perché giochiamo a Minecraft d'anni, è una noia partire al ferro Prende il ferro, quindi Ma esatto, ma cos'è sta roba? Aspetta, ma sto simbolo sulla porta qua? Eh, sembra quello della fondazione Delle SCP Qualcuno ha spaccato il suo reddito Quello era il bottone Ma cos'è? Qua c'è uno scaffale C'è della carta e c'è una carta C'è una keycard di livello 3 Buono Dammi la carta Alex Sì dai, dalla SCP 939 Mi è vagamente Mi è vagamente presente Stiamo distruggendo le raffine Il famosissimo Grazie 939 praticamente è colui con tante voci Praticamente sembra un cane rosso gigante a quattro zante E lui è cieco, ti vede solo se ti muovi E divora le persone Quando le divora Assorbe la loro voce E dopo di che Per attirarti Userà la loro voce Magari gli dice Chiedendo aiuto Chiedendo aiuto Allora qualcuno Va a salvare questa persona Che chiede aiuto Senza sapere che in realtà È 939 È un SCP molto pericoloso Qua serve la carta di livello 3 che abbiamo appena preso Ok Questa sarà la cella di sicuro Qua ci serve quella di livello 4 Infatti si chiama with many voices Qua c'è un'altra carta Ah c'è un'altra carta di livello 2 Ok ok Ho messo la mia E ho preso la carta di livello 2 No l'ho presa io What the fuck Qua c'è una batteria con un visore notturno Ma si è sdoppiata la carta Pablo L'hai presa pure te? Sì Vabbè diamo Alex Erano due allora Erano due allora Ma è scomparsa È il visore notturno con la batteria Tieni Ma mi è scomparto dalle mani Ho cercato di darla ad Alex È perché era buggato allora Puoi Aspetta 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 Ma questo? Qui livello 4 Qui livello 4 Cosa Questo è un computer E se cp939 E dice che è l'Scp939 Cioè io ho attivato la REC Ma perché Guardate Guardate come li tengono Oh mio Dio Chiudi 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 Buttiamoci una porta Hai delle Dei blocchi No non vi preoccupate Ci sono le scalette Guardate quanti sono Ma se li picchiamo Eh ci picchiamo Guardiamo la stanza C'è della lana Ma sono loro a fare le voci dei mob Sono dei cubi No Alex No Alex No Difenditi 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 Picchiali Alex Attento Difenditi Alex Aia Tolgono parecchia vita con l'armatura Aia Alex Mi sa che per te è finita Esatto No Alex Oh mio Dio Sono rimasto con un cuore in mezzo Sono saliti Sono saliti Salgono Salgono Ma ad olio ha bloccati Che casino che fanno Fanno un casino Terribile Allora dobbiamo provare Magari a fare una roba del genere Sì già spaccare a pugni Fermi Fermi Ecco qua sotto riesco a prenderli Oddio Ragazzi stiamo cercando di prendere le robe di Alex No 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 Fermi 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 Pablo è morto Prenditi le robe Alex Come facciamo ora Eh non lo so Ne ho ammazzato uno Bravo No va bene va bene Va bene va bene Ma lì vedo una keycard Sì 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 Via 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 Però a spaccare No aspetta Vabbè non andare E niente Aspettate no E niente No raga è un casino Pure su Alex È un casino È un casino È un casino È un casino Ma come avete visto 939 praticamente Avete notato che aveva le voci di un po' tutti i mob Aveva la strega Aveva lo zombie Poi aveva la sua vera voce Io sento un villager Ma come facciamo a prenderci le robe raga Prego Non lo so Possiamo Eh dobbiamo disterminare Sì Allora Tecnicamente da fondazione Le regole Dicono che ce ne possono stare al massimo due o tre in cella E quindi Però Mi sembra che stessi siano Mi sembra che stessi siano Evoluti un po' troppo Non so se è normale questa cosa Io Dovevi andare tutto dritto È a coordinate 462,78 Cosa possiamo fare raga? Cosa possiamo fare? Sono caduto in un buco raga Ok adesso ci siamo tutti Possiamo ragionare Madò abbiamo fatto un bel casino però qua Ma come facciamo a riprenderci le robe? C'è la mia preoccupazione principale Sì Eh vabbè tanto non ha nulla di così particolare Sì robe in ferro però Ci servivano comunque Cos'è ma qui è rinforzato? Poi le carte di livello 2 erano importanti Posso tentare È un SCP molto pericoloso Infatti è di classe Keter Attenzione Kofi Vai 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 Fatti un pilastro Fatti un pilastro Eh sì cerco di salire qua No Quello che mi distraggono No 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 Eh vabbè Avevo le torce nell'altra mano È un casino È un casino Tanto è venuto giorno Li prendono da una grande distanza Oh cacchio No la porta è chiusa ragazzi Vabbè sostituiamo il bottone Sostituiamo il bottone No 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 Non importa non importa Si rompono bene a mano queste porte No vabbè ma potevamo sostituire il bottone Guardate il coordinato del coso Levati i coffi Oddio ora esco Mi sai Aia Dove pensi dare le coordinate Oddio Casino Casino Ecco ti sei tornato Ma non siamo qui Dammi del cibo Dammi del cibo Dammi del cibo È andato È andato È andato Attenzione raga Come facciamo ora C'ho la tessera di livello 2 Buono 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 Vai indietro Vai indietro Raga questi qua escono Se continuiamo così Sì escono di brutto Picchia 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 Oh ma che problemi avete No ma siete pazzi È finita è finita Raga abbiamo liberato I With Many Voices Che casino Allora secondo me Dobbiamo farci Una base lontana È finita Abbiamo perso tutto Secondo me Dobbiamo farci Una base lontana Dai With Many Voices Eh ma In quella zona Perché comunque Per il momento Sono ancora chiusi Dentro la loro cella Ma abbiamo perso tutto Eh vabbè Stizza Proviamo l'ultima volta Poi però Se continuano ad uscire No ma proprio È fuori È fuori Ci ha spaccato le porte Si sono spaccate le porte Raga Ah no vabbè Non importa Andiamo 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 Ci sono spaccate le porte Allora aspetta Aspetta Non ti vedo Non ti vedo Basta che vai dritto È tutto dritto Non penso che questa Sarà una serie Cioè che È successo per caso Questo episodio Di trovare una cella SCP Con dentro degli SCP Non credo che si ripeterà Questa cosa Vabbè Noi Ci allontaniamo da qua Un creeper Complimenti No Almeno lo allontano È una strega È una strega È qui È qui È qui È qui È sci È sci No è eccessivo Però tutte le robe Sono là dietro Possiamo provare Ok Ma torna sempre indietro Sì possiamo provare A chiuderli in un angolo E riprendere almeno Quelle robe lì Bravo Alex Prendi delle Io prendo queste Io prendo questa terra Sì ma come possiamo farcela Ma è assurdo Eh ci servirebbe la porta al gun Sapete Sarebbe una buona idea In qualche modo In futuro È abbastanza prossimo Oh mio dio Rega l'ho tappato Davvero? Abbiamo parzialmente libero accesso Parzialmente Poi finché non facciamo troppo casino La Si riesce Se tipo stiamo shiftati Non ci vedono Tecnicamente no No ma me l'ho visto Raga facciamoci le cose Che pizza Ah no sei un pazzo Ma guarda che Abbiamo Non hai idea di ciò che hai fatto Pablo Dobbiamo avanzare con la trincea Sennò Dammi tutta la terra Sennò guarda Mi spacco un attimo Aspetta Pablo Non devi stare davanti Mentre piazzo Sei un pazzo Tu non devi stare davanti Mentre piazzo Pablo Aspetta un attimo Queste parti che stanno uscendo di ac Sì sì Ma tanto gli oggetti Ce li siamo givati Noi Ma tanto che bruttissimi Bravo Pablo No ma l'hai distrattissimo Rivieni qua Madonna ma tu sei un pazzo Ma? Ah mi aveva seguito Eh sì Oddio E proviamo quest'ultima volta Tecnicamente abbiamo capito come fare Però ho ripreso gli oggetti Quindi Hanno ancora di nuovo sei minuti Prima di Oh no Io ho sbagliato strada Mi sa Sì Allora Devi aiutare Dammi un po' di blocchi Ok bravo Io ce ne ho una quattro Adò raga abbiamo fatto un casino Con la cella Portalo qua Pablo portalo qua Che io lo tappo Ti sta seguendo No ma tu sei un pazzo Salta sopra Salta sopra Vai sopra Mi provo a fare qualcosa Pablo tu portalo qua Non se lo fai uscire Un manicomio Bene Pecchiamola da qui Aia Ti prende Guarda che esce È morto È morto Vai 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 Prendiamo la roba Attenti raga Prendete tutto Prendete tutto Non c'era tanto Abbiamo il label C'è che c'è una spada C'è una spada C'è una spada No lasciamo stare No continuiamo a morire poi Cerchiamo di tappare il possibile Ma non credo che reggera tanto No no è debolissimo Ma prendiamoci le porte magari Per fare Una abitazione Cioè queste porte sono sicure Cioè le tenevano dentro Fino a quando noi non siamo arrivati Però strano che sia abbandonata questa cella Comunque Ma appunto È stranissimo Questo qua di che livello è? No questo computer Perfetto raga Non lo so Direi che Era un video così Ma non per Non per una serie Non per Cioè Non era un video per Far nulla Così Perché abbiamo trovato Sto laboratorio A quanto pare Perché all'inizio Non l'avevamo neanche riconosciuto Io sto prendendo un po' di oggetti C'è una roba Alex fai attenzione Basta direi di Aspetta aspetta Fai andare a me che sono a pugni Esci esci Prenditi tutte le robe Datemi tutte Io ci ho provato a fare Una Oddio abbiamo la carne Sono rimasti pochi In realtà Sono tutti all'altra parte Pablo vai Sono comunque In regola adesso Sono in tre Raga secondo me possiamo anche Lasciare così eh Pablo fatti Un qualcosa sotto i piedi Sei un pazzo Via 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 Scappiamo 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 Sono in regola adesso No sei un pazzo Alex esci Alex esci Aspetta No 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 Pablo Tu sei pazzo Pure te Ok sei al sicuro Alex Sì più o meno Provo a scavare Scavo 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 Ok ci siete? Eh io sto tornando Ammazzalo Alex Ammazzalo Alex Aspetta È nel mio portafoglio E perché ce la scippai sta? Vole c'è questa cosa? Abbassavose Lo ci so Bene Allora adesso Adesso la cella è in regola Più o meno Le parti sono distrutte Però per il resto è in regola la cella Io direi Dipendere due blocchi E tappare la porta principale E andarcene Ragazzi Io ho tappato Gli ufficini stavano urlando Ok abbiamo tappato tutto Abbiamo tappato tutto? Ok andiamoci a fare una piccola Una piccola casetta Cioè abbiamo appena iniziato È assurdo Dai Allora Ci salutiamo Speriamo di non continuare Queste cose Sì Sì adesso sono in due Adesso la cella dovrebbe essere al sicuro Magari quando stavano più forti Torneremo a Estinguerli A decimarli Sì 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 Perché non ne vogliamo sapere niente Di queste cose Com'è che si mettono ste porte? Buona in un verso L'altra nell'altro Ok Vabbè Ci siamo Ultimo Ci salutiamo ragazzi Qualcuno mi ha rubato le porte Io 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 le metto Da me le dame le veloce No le messe contro Eh sì Cioè E non hanno senso Dammele dammela Ho capito E poi questo qua così Oh Che non è vero Abbiamo avuto Bene Adesso è giusto Ok abbiamo fatto giusto Vabbè Adesso sarà l'inizio di una casetta Vabbè Ci vediamo in un prossimo video ragazzi Prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.